Noi avevamo un paese arrivato e avevamo visto il momento commerciale, arrivava, si faceva la missione, mi portava un rando, mi faceva le domande che lui si chiama, si chiama, si si chiama, no ma devo andare fuori con l'acqua, dopo 30 anni mi sono trovata a lavorare e lei che ti fai? Ma perché la conoscete qui? Luca, Luca, ma in prima, all'iniziativa fisica, con il terreno, ciao, che stai dicendo? Ma qua, mi fa lasciare il libro, li faceva la melancia lecce fuori, e le fece dichi shock threat nonınız, nonostante fisica, e quindi dei esercizi, li faceva anche il órgano liberale, Teoria Marichi, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5. Ora, 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 ora Pallo, pallo, check out! Fate vedere il chino! Arriva! Pagni, prego i compagni! Pagni, prego i compagni! Pagni! Pagni, prego i compagni! Pagni, prego i compagni! Arriba! Buongiorno! 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.